Caro Max, voglio stare con te per tutta la vita. Sei una di quelle poche persone che mi ha fatto sorridere in questi ultimi mesi. Ti amo, ti amo, ti amo. Volevo festeggiare con te il nostro anniversario. Della tua cara fidanzata Valentina, per Max. Oh ma che belle parole che ha scritto Valentina, ma io ho ancora delle parole più belle. Tre fiammifere accesi uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca e tutto il buio per ricordarmi queste cose. Mentre ti stringo fra le mie braccia. Sono un genio. Risposto! Stai calma? Non ci credo, dopo avverti scritto un testo che viene dal mio cuore, tu mi rispondi con un emoji. Ma non ho parole, ciao! Ciao caro, come stai? Ciao bambola. Insegniamo a vedere i tabelloni, speriamo di essere insieme. Ok. Sì, siamo insieme! Sì, siamo insieme! E poi tutto sta andando secondo i miei fiami. Ciao Max, come stai? Speriamo di essere nella stessa classe insieme. Andiamo a vedere i tabelloni. Cosa? Angelica è nella sua classe! Io non sono con lui! Aspetta! Perfetto! Olivieri, che cosa sta facendo? Buongiorno, professore! Cosa? Una penna? No, non stavo cambiando mica i nomi. No, 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 no. Tornò subito in classe! Max, si muova! Ma quanto è bella quella tipa! Max, ne ripariamo più tardi, ok? Via! Ma quanto è bella quella! Lo sai che non devi guardare nessuna tipa! Devi guardare solo me! Hai capito? Poi vale, visto che sono la mia fidanzata, ti porterò in un bellissimo posto. Ti porterò al sushi! E che è quei ragazzi migliori del mondo! Io! Ma come si cucina? Non so fare proprio niente! Tutti insieme! Non so cucinare niente! Tutti i biscotti saranno bruciati! Sono sporco da ieri! Sono sporco da oggi! Permesso! Ciao Max! Chiudo la porta! Permesso! Ciao, come stai Max? Ciao cara! Vuoi provare un biscottino? Ah, hai cucinato tu! Oh, perfetto! Ah, mi fai provare un tuo biscotto? Ok! Tieni! Mmm! Come sono? Buono! Bene, sono contento! Vado a farmi gli altri! Cosa faccio? Andrà bene questo appuntamento? Le piacerò? Ci sposeremo! Ah, e se andasse male! Non so niente! Come faccio? Vale! Vale! Aiutami! Capisco niente! Ma quanto? È la A! È la A! Grazie! Non so niente! Non so niente! Vale! 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 No! Perché mi ignoro! Vale! Vale! Ti prego! Ti chiedo mai niente! Per favore! La 1! La 1! A! La A! La 11! È la B! È la B! Grazie! Scusami! Ti amo però! Amo anch'io ma perché? Scusa! Eh, lo scoprirai più tardi! Boh! Allora a tutti i micini! Io sono Valentina! E spero che questo nuovo verso vi sia piaciuto! Mi prego di iscrivervi! Vi ricordo di attivare la campanella per non perdervi nessun altro video! E... Ci vediamo la prossima volta! Ciao! Ciao!